Scatta stasera dunque questo decennale dello Shaka Film Fest che si apre con una sorta di anteprima, poi ci sarà un altro appuntamento a settembre. Davide Schittoni. Esatto, come dici tu, quella di stasera è l'inaugurazione di questa prima fase che è un po' una celebrazione della storia del festival che è arrivato a dieci edizioni. Quindi quest'anno abbiamo accolto volentieri la proposta anche da parte dell'amministrazione di entrare proprio nel centro storico della città e proporre davvero a tutti, insomma andare noi, dai cittadini, dagli spettatori, per proporre una selezione di opere che abbiamo programmato nelle scorse edizioni, alcune di queste sono vincitrici nella categoria documentari che è comunque una sezione che noi abbiamo sempre curato molto. Questa anteprima durerà fino al 27? Durerà fino al 27 agosto e poi l'appuntamento successivo sarà invece dal 13 al 17 settembre alla Badia Grande con la classica formula del festival che ormai molti conoscono, cioè quella dei concorsi, il cortometraggio, il lungometraggio, il documentario, più le rassegne tematiche, gli incontri con l'autore, ospiti. Appuntamenti in questi giorni non soltanto cinematografici ma anche di letteratura, di musica, di esposizioni artistiche? Esatto, intanto ci tengo a sottolineare che questa sera il tutto avrà inizio con l'inaugurazione di questa mostra dal titolo In Viaggio con Wondi e poi oltre alle proiezioni di documentari che anche stasera diciamo dalle 20 in poi fino a tardasera proseguiranno, poi tutte le sere si alterneranno ad appuntamenti non solo di carattere cinematografico, appunto presentazioni di libri, ci sono diverse cose, io invito tutti a guardare un po' il programma però così volendo ricordare proprio qualcosa appunto direi, il 24 c'è la presentazione di un libro di Pietrangelo Buttafuoco, sempre in atrio superiore del comune, il 23 il giorno prima c'è una serata organizzata con Donciotti e Libera, un appuntamento importante con il jazz che noi sottolineiamo è quello del 21 sera alla Badia Grande con Amato Jazz Trio, che è un trio di jazzisti siciliani, insomma davvero stimati in giro per l'Italia e non solo. Dunque l'appuntamento per questa sera si comincia all'atrio superiore del comune? Esattamente, ore 20, atrio superiore del comune con l'inaugurazione della mostra In Viaggio con Wondi e a seguire tre proiezioni di documentari che andranno quindi avanti fino a tarda sera. E poi nei prossimi giorni appunto appuntamenti che saranno sempre in atrio superiore fino al 27 con qualche appuntamento musicale di Musica dal Vivo alla Badia Grande.